Non era un'emergenza di ordine pubblico quella, obiettivamente, era un problema di accoglienza umanitaria, noi abbiamo disposto i servizi coordinati dalla Prefettura proprio perché non sudessero, non incidenti di OP, ma soltanto per un principio di accoglienza e devo dire che la Prefettura ha svolto un lavoro egregio, straordinario. Concludiamo, un appello mezzanotte di Capodanno, trascorriamolo tranquilli. Divertitevi, rimane intelligente, tanto cuore con un pizzico di intelligenza. Un appello, ma questo è già un primo elemento che si può trarre per cercare di garantire la massima tutela per questa festa? Ma io non generalizzerei che qualche ragazzo abbia esagerato e parlo di poche decine, non significa che la maggior parte dei giovani a Salerno utilizzino troppo alcol. Durante le feste qualcuno eccede, bisognerebbe che tutta la società civile e noi stessi li educassimo in maniera diversa, ma non è un problema di dignità o di ordine pubblico, è soltanto un problema di attenzione verso certi ragazzi che non hanno il senso alla misura, nient'altro che questo. Grazie. Nucle artificiali, quest'ultimo di Salerno. Poi Alessone. La prudenza non è mai troppa, alcuni consigli utili per evitare poi le tragedie. Allora, i fuochi d'artificio fanno parte della nostra tradizione, in particolar modo del nostro territorio, senza demonizzare la loro bellezza, la gioia che trasmettono. La Polizia di Stato ha avviato una campagna di sensibilizzazione nelle scuole rivolgendosi ai bambini, quindi agli adulti del domani, che ora i bambini andranno a casa e diranno ai loro genitori come divertirsi senza farsi male. I consigli che noi abbiamo dato ai ragazzi è questo, che dovranno parlare sempre con i loro genitori perché devono comprare i fuochi d'artificio, lo diciamo sempre, nelle rivendite autorizzati, mai per strada, mai sulle bancarelle, perché sulle bancarelle noi troviamo un prodotto non legale, non sappiamo chi l'ha fatto e quindi poi c'è una cosa molto importante, chi non ha venduto l'anno scorso non ha buttato il materiale, quindi lo rimetterà di nuovo in commercio e quindi siccome è un materiale egloscopico che assorbe umidità, questa cosa la dico sempre, troviamo un materiale che non è funzionante, lo ritroviamo sulle bancarelle e voi lo comprate, quindi è una cosa molto molto pericolosa. Ecco c'è un mercato parallelo, un mercato illegale, sicuramente per spendere meno si punta maggiormente a questi canali, che tipo di fuochi quest'anno sono stati messi in commercio e quali sono quelli soprattutto pericolosi che avete anche già sequestrato? I fuochi, dico sempre la stessa cosa, i fuochi pericolosi sono i manufatti artigianali, quelli che dovrebbero essere esplosi nelle feste dei paesi, nelle feste patronali, fuochi artigianali che possono essere maneggiati prudentemente da pirotecnici professionisti, qui ci troviamo persone che utilizzano dei mortai messi in tubi di plastica così improvvisati all'interno e iniziano a sparare senza pensare che un tubo del genere dopo 3-4 mortali, dopo 3-4 esplosioni inizia a diventare caldo, basta inserire un manufatto all'interno e gli esplode sul posto e lì ha un effetto mortale questo, quindi tutto quello che diciamo sempre è che bisogna comprare fuochi illegali e nelle rivendite, sulle bancarelle troviamo anche dei falsi, abbiamo dei fuochi d'artificio che sembrano legali ma vengono costruiti, copiati diciamo, perché molti giornalisti dicono continuamente i fuochi illegali, i fuochi cinesi, i fuochi cinesi sono legali, i fuochi illegali vengono costruiti in Cina, vengono controllati dai produttori, poi arrivano in Italia e vengono controllati qui in Italia, quindi abbiamo un mercato cinese, un mercato cinese che da lì provengono i fuochi d'artificio, quelli illegali, quelli illegali spesso vengono copiati qua in Italia, un po' all'incontrario e qui troviamo dei fuochi d'artificio illegali, vedete dei cartoncini dove vengono poi riempiti di materiale pirotecnico senza uno stabilizzante sotto e molte volte anche una cassetta del genere, nell'accendersi si può capovolgere e quindi diventa un vero e proprio proiettile. Grazie a tutti. Quello di festeggiare con fuochi d'artificio che hanno un effetto luminoso, scenico e divertitevi, non passate l'ultimo dell'anno in una corsia di ospedale, non è consigliato.